Tragedia familiare a Salerno. Un uomo ha infatti ucciso la madre e la sorella e poi ha tentato il suicidio. Il giovane Giovanni De Vivo, dopo aver ucciso le due donne, avrebbe tentato di tagliarsi le vene, ma senza riuscirvi. L'allarme è stato dato dai vicini. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. De Vivo è stato trasportato in ospedale. Il trentenne, sofferente di disturbi mentali, è stato arrestato. Ad intervenire i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, con l'ausilio dei vigili del fuoco e del centro della Valle dell'Irno e del personale del 118, che una volta dentro l'abitazione hanno trovato i cadaveri di Antonietta De Santis, del 57, e della figlia Deborah De Vivo, di 29 anni, uccise a quanto pare per strangolamento. A seguito del sopralluogo del sostituto precuratore ed un primo esame del giovane omicida presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è appurato che lo stesso e in preda a un raptus di follia avrebbe strangolato la madre e la sorella, in seguito alle preoccupazioni cresciute negli ultimi tempi per gravi condizioni economiche. Dopo il duplice omicidio avrebbe tentato di suicidarsi, per entrambe le donne è stata disposta all'autopsia. Dovrebbero essere state strangolate, però adesso è stata usata anche una forchetta, adesso vediamo un attimino quando arriva il medico legale. Sono uno sul letto e uno per stesso. Non è recento, penso alla giornata di ieri, però se non viene il medico legale non possiamo certo avere...